La Chiesa è davvero viva se formando un solo essere vivente con Cristo e portatrice di vita, e materna e missionaria, esce incontro al prossimo, sollecita a servire senza inseguire poteri mondani che la rendono sterile. È la riflessione che Papa Francesco ha offerto ai partecipanti alla 68esima settimana liturgica nazionale sul tema Una liturgia viva per una Chiesa viva. Dopo aver delineato i passi compiuti in questo orizzonte dal Concilio Vaticano II fino ai nostri giorni, il Pontefice ha precisato che c'è ancora da lavorare, in particolare riscoprendo i motivi delle decisioni compiute con la riforma liturgica, superando letture infondate e superficiali, ricezioni parziali e prassi che la sfigurano. Di qui ha poi approfondito tre punti riguardo alla liturgia, che è vita per l'intero popolo di Dio, che non è una semplice idea da capire e che deve essere radicata nel Figlio di Dio. La liturgia è viva in ragione della presenza viva di colui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato da noi la vita. Senza la presenza reale del mistero di Cristo non viene nessuna vitalità liturgica. Come senza battito cardiaco non c'è vita umana, così senza il cuore pulsante di Cristo non esiste azione liturgica.